Ciao a tutti gli amici di Drama Shine Made in Italy, bentornati a questa serie di video dedicati ai trucchi del mestiere. Oggi vediamo l'uso artigianale ma funzionale in qualsiasi situazione dell'ancoraggio dei pedali ai diversi pavimenti, con l'aiuto del nastro americano detto gaffa. Come avevamo detto nel video precedente, a meno che la batteria non sia ancorata, ma come sappiamo che quest'ultima soluzione riguarda batteristi di grandi tour con uno staff tecnico di alto livello ed estremamente attrezzato e considerando che avere un tappeto adatto è comunque una buona soluzione, spesso risulta però insufficiente ed è quindi per maggiore sicurezza la soluzione che vi proponiamo rimane quella più adoperata al mondo, in assenza di soluzioni tecniche ad alto livello. Partiamo dal doppio pedale, abbiamo una prima applicazione verticale alla base del pedale che continua per almeno 20 centimetri dalla superficie del pavimento. ripetiamo la stessa operazione con il secondo pedale della cassa, segue il pedale dell'e-hat e la clave. possiamo rinforzarli con un doppio strato di nastro. Per evitare eventuali slittamenti a destra e sinistra dei vari pedali, aggiungiamo un pezzo di nastro orizzontale per ogni pedale, per maggiore sicurezza. Come vedete è una soluzione molto artigianale ma molto efficace. Grazie per averci seguito in questa lezione e alla prossima. Ciao a tutti!